Andy Lux Colors, la lampadina LED multiuso e senza fili, perfetta per qualsiasi ambiente, interno ed esterno. Appendetela, tirate il filo e guardate che luce! Un click, due click, tre click, non c'è nulla di più semplice! Andy Lux Colors è un prodotto estremamente versatile e perfetto per quei luoghi che non sono raggiunti dalla linea elettrica. Andy Lux Colors è la fonte di luce perfetta e senza fili, a vostra completa disposizione, 24 ore su 24! In ogni abitazione ci sono zone non raggiunte dalla corrente. Con Andy Lux Colors sarà acqua passata! Le lampadine Andy Lux Colors sono leggerissime! Il cordino delle lampadine Andy Lux Colors è lungo più di un metro, così potrete appenderle comodamente ovunque vogliate. Le Andy Lux Colors sono robuste e a prova di caduta e dispongono di una rivoluzionaria superficie sicura al tatto. Ciò la rende perfetta per i bambini. Adatta a ogni occasione, all'interno o all'esterno della vostra casa. Chiamate ora per informazioni! Ben 4 rivoluzionarie Andy Lux Colors allo straordinario prezzo che state vedendo sullo schermo! In questi splendidi colori! Giallo, arancione, fucsia e verde! Ma aspettate! L'omaggio a altre 4 lampadine Andy Lux Colors completamente gratis! Avete capito bene! Totale di ben 8 lampadine senza fili Andy Lux Colors allo straordinario prezzo che state vedendo sullo schermo! Questa è un'offerta davvero imperdibile! Chiamate ora per informazioni!